radio ok in collaborazione con magilla spettacoli presenta dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì giovedì e sabato alle 19 e 30 in diretta live sulla pagina facebook radio ok conduce daddy dj buonasera a tutti siamo in diretta web diretta web sulla pagina social radio che punto it quindi potete andare a cliccare sulla pagina radio ok in diretta abbiamo un ospite un ospite molto importante oggi oggi parliamo di cultura parliamo di cultura poetica scritta ma soprattutto un saggista quindi disagi culturali ma anche di libri abbiamo un ospite importante che io a breve farò vedere che parliamo proprio di lidia caputo buonasera lidia e benvenuta in questa nuova opportunità no questa l'opportunità di verdina quella del web chiedo a farsi la padrone doveva farsi intervista della legge dj una sera lidia buonasera a tutti come stiamo innanzitutto benissimo ok mi fa pienamente piacere che siamo in diretta io partirei subito con la prima domanda lidia perché so che lidia è una è una donna di casa una donna che mi piace stare la tv ma nello stesso tempo anche prendere note scrivere e io dico vi faccio subito la prima domanda perché la domanda più più bella direi ma ci sono tante altre che le farò nel corso della puntata abbiamo un termine circoscritto che saranno attorno ai 40 minuti 45 minuti al massimo quindi dobbiamo essere piuttosto stringenti come ti dico una semplice domanda questa prima domanda che ti faccio perché lidia caputani ha incominciato a scrivere è una domanda che sembra semplice ma è complessa e devo risalire alla mia infanzia quando ho respirato e ascoltato in casa sia mia e mia madre che era professoressa di lettere e alla scuola media e inferiore poi anche al superiore e soprattutto e mio padre un grande poeta in lingua dialettale ma che ha trattato problematiche di alto spessore culturale come quelle storico sociali ed etico religiose tanto è vero che si trova nell'antologia dei più grandi poeti dialettali contemporanei e di spagnoletti e poi è apprezzato stato apprezzato da barberi squarotti e dai professori macri chi appini valli filieri e quindi diciamo la salentina sì 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 salentina e nazionale sì sì poi io un'altra domanda che ti faccio subito alla dottoressa chi è una dottoressa anche se non ti piace essere chiamata dottoressa perché no 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 c'è una storia che ricollega al momento in cui ha deciso di voler diventare scrittrice e non ho sentito bene la domanda se la puoi ripetere c'è un'immagine nella sua memoria che ricollega al momento in cui ha deciso di voler diventare scrittrice sì allora è un'immagine legata ai lunghi periodi estivi trascorsi in una ridente località balneare torre lapillo e della torre al tramonto quando i raggi solari e porfurei penetrano nelle arcate della della scala della torre ecco in un gioco caledoscopico e questi raggi sembra che si siano impressi nella mia anima e mi ispirino anche poeticamente e già sta dettando poi ci racconti il suo rapporto con la scritta con la scrittura e come è cambiato nel tempo sì e il mio rapporto con la scrittura è precoce perché nasce da una precoce anche lettura appena iniziato a leggere e verso i sette otto anni già sono riuscita ad approcciarmi a testi di grande importanza internazionale come l'urlo e il furore di faulkner e la vita un sogno di calderon della barca e poi tutti i poeti ermetici che mio padre collezionava appena venivano editi dalla mondadori diciamo libri anche di arte di musica di vari generi anche scientifici perché il libro per me è stato sempre un grande amico e quindi questo legame è nato in un'età molto antica e diventa sempre più forte ci racconti io questo abbiamo detto cosa significa scrivere oggi e cosa significava scrivere all'inizio allora scrivere oggi è più impegnativo perché le tematiche sono diventate più complesse in quanto viviamo nella cosiddetta società liquida per per citare appunto un'espressione sociologica in cui tutto sembra svanire a una velocità incredibile anche le immagini le notizie che ci bombardano non ci lasciano il tempo di riflettere e di rielaborare e invece un tempo la cultura era più riflessiva perché nasceva anche da una un ritmo più tranquillo e dava la possibilità di afferrare in maniera più profonda i messaggi che erano minori e quindi potevano essere analizzati con maggiore senso critico oggi invece questo bombardamento mediatico non ci consente di farci un'idea chiara della realtà e quindi tutto sembra virtuale viviamo in una dimensione così fugace che tutto sembra effimero quindi la cultura invece si deve riappropriare di quei valori fondanti della civiltà che sono appunto la bellezza la bellezza che è la bellezza anche dei classici degli autori classici a partire da Omero dai tragici greci dai filosofi antichi Platone, Aristotele fino ai grandi autori del Cinquecento e poi filosofi come Erasmo da Rotterdam che è appunto esponente di un umanessimo internazionale Calderon della barca che ho citato prima ma per arrivare poi anche ai grandi classici dell'Ottocento soprattutto gli autori russi Tolstoido, Stoieschi ma anche tedeschi come Wolfgang Goethe che ha trattato una tematica il Fausto che penso che sia attuale anche ai nostri giorni per i nostri ragazzi infatti il Fausto è un personaggio che vende l'anima al demonio per diventare onnipotente così riesce a ottenere pur essendo molto anziano l'amore di una ragazza però poi ecco quest'uomo sta per essere inghiottito dall'inferno per le malvagie azioni compiute e lo salva Margherita proprio nel punto estremo ora dico questo a proposito anche di quello che sta succedendo sui social con giochi pericolosi che evocano scenari raccapriccianti di cimiteri soprattutto giochi pericolosi giochi pericolosi, giochi di sfida dove si perdono sì sono dei giochi di sfida appunto in cui i ragazzi per far valere il loro istinto di onnipotenza sfidano gli altri anche fino a perdere coscienza di sé fino allo svenimento c'è un blackout challenge che appunto porta le persone a svenire per poi riprendersi sì però spesso questi giochi portano anche alla morte di ragazzi di 10-11 anni i ragazzi invece dovrebbero accostarsi a giochi più intelligenti per esempio il gioco degli scacchi si può apprendere anche attraverso il web e quindi le sfide sono quelle positive di migliorare se stessi di entrare in contatto con gli altri poiché adesso non lo possiamo fare direttamente anche via web scrivendo anche delle poesie facendo magari una sfida tra poeti in erba sul web ecco a chi scrive la più bella poesia e magari la vostra radio potrebbe premiare le poesie che dicevano le preferenze dei lettori penso che queste siano le vere sfide cioè dimostrare le proprie capacità di carattere culturale e non essere preda di questi speculatori del web che spesso sono persone molto pericolose possono essere anche adescatori di giovani un'altra domanda cosa è rimasto cosa ha perduto e cosa ha guadagnato della scrittura e io penso che quando uno ha un patrimonio spirituale, culturale questo viene trasformato ma non si perde quindi io ritengo che tutti assimiliamo anche quello che accade intorno a noi però dobbiamo avere il tempo di rielaborarlo quindi quello che si è perduto oggi è quella capacità di riflessione che un tempo potevamo avere leggendo un libro annotandolo magari a margine rivedendolo adesso invece compare un'immagine per esempio sullo schermo però un'immagine che ti piace un'immagine di un monumento oppure di un quadro ma quando vai a cercarla ormai l'hai irrimediabilmente persa ecco quello che abbiamo purtroppo smarrito è quella capacità di avere un'assimilazione e una riflessione su quello che compare così vorticosamente sui mass media chiaramente è tutto vero io quello che sento da Lidia oggi ci sono anche alcune cose che per me sono nuove però bisogna comunque aiutare, fare e capire soprattutto io penso che i giovani debbano essere educati a usare questi mezzi e non essere lasciati soli cioè i genitori devono essere sempre presenti certo dico non per tutto il tempo la durata del tempo però ogni tanto devono affacciarsi e vedere in che situazione sono i loro figli perché molte volte questi ragazzi si sentono male non possono neanche chiedere aiuto invece diciamo una colpa di questa situazione è ascrivibile anche alla distrazione dei genitori che non si accorgono anche delle condizioni psicologiche dei loro figli e dei loro bisogni Adesso un'altra domanda qual è il suo pubblico ideale? Signora Lidia Abbiamo parlato tanto di giovani allora il mio pubblico ideale sono tutti ma quelli prediletti sono appunto i giovani perché proprio in questa età i giovani cominciano a maturare le loro scelte di vita acquisiscono capacità critiche per comprendere il significato della realtà e si accostano all'amore e con l'amore si accostano anche alla bellezza quindi i giovani si schiudono come fiori e sono capaci se appunto non vengono martellati continuamente dai mass media di captare sensazioni, emozioni, sogni dalla realtà che li circonda soprattutto dalla realtà naturale ma anche da un'opera d'arte ecco, il fatto di riaprire i musei è fondamentale riaprire le scuole riaprire i musei per avere di nuovo quel contatto diretto con le cose perché se no rischiano di vivere come in una bolla di cristallo e quindi vivono isolati dalla società dai loro poetanei e non riescono più a esprimere tutte le loro potenzialità ma anche quei bisogni affettivi che sono fondamentali nell'età dell'adolescenza penso che la poesia si ti interrompo ti interrompo e ti dico si perché mo' hai toccato un tasto hai proprio accennato un argomento piuttosto come dire piuttosto non saprei manco io dire dolente perché tutti quanti piangono tutti quanti hanno la volontà di crescere tutti quanti si sentono chiusi perché le proprie attività sono chiuse con gli stori che ancora devono arrivare io non voglio buttare frecciatina a nessuno ma parliamoci chiaro è vero il museo qualsiasi cosa è buona perché comunque fa crescere il business sia culturale sia turistico ma sia anche una conoscenza di un qualcosa di nuovo con le nuove aperture con i nuovi progetti ma in questo momento qualsiasi cosa si andrà a fare se non è mirata purtroppo si rischia a ritornare a un qualcosa che già c'è stato quindi al lockdown totale non è che adesso stiamo facendo granché però qualcosa si sta avvenendo il problema è uno Lidia io ti faccio una piccola parentesi e l'apro e la chiudo subito perché sui social adesso c'è Amadeus che nel campo televisivo giustamente lui è un matatore non arriva il Fiorello non arriva il Carlo Conti ma lui giustamente sogna il festival di Sanremo chiunque sogna di andare a varcare il teatro Ariston risolcare con la propria con la sua propria professionalità carisma quel palcosceno che tutti quanti tutti quanti sognano di risolcare però purtroppo mi collego e io apprezzo Franceschini il ministro dove ha detto oggi il DPCM è valido per tutti sono d'accordissimo che Amadeus lancia la frecciatina e mi dice sono pronto a lasciare il festival di Sanremo beh non so non so fino a che momento gli converrebbe lasciare il festival di Sanremo perché comunque o voler o volare il festival di Sanremo senza restrizioni o con le restrizioni comunque si deve fare quindi non ci possiamo definire italiani al 100% se non c'è nel campo culturale musicale parlo io ma anche anche nel campo vostro ci sono tanti festival che purtroppo non si possono fare perché comunque c'è un come dire una restrizione io ti parlo e di non perché voglio fare pubblicità ma la verità Maria Teresa Protopapa una grande dottoressa una grande ambasciatrice culturale tra l'altro ultimamente ha avuto il premio anche dalla Palestina non potrà fare non ha fatto già alcuni dei premi e l'ha dati direttamente con attestati su questo dei corsi degli ospedali quindi non ce ne facciamo purtroppo c'è questa situazione dobbiamo convivere Lidia e io ti lascio continuare a parlare Sì questa situazione è molto delicata perché vediamo che tante persone soprattutto vorrei parlare anche degli anziani che purtroppo sono stati trascurati durante la pandemia perché un numero così elevato di morti è inspiegabile se ci fossero state invece delle strutture sanitarie aperte a tutta la popolazione non sarebbe accaduto questo ma purtroppo per risparmiare diciamo sul bilancio dello Stato hanno tagliato i costi della sanità hanno chiuso ospedali licenziato medici infermieri è stata una politica dissennata che ha aggravato la tragedia del covid ora ci dobbiamo rimboccare adesso la chiudiamo parliamo di scrittura sì sì una piccola parentesi però volevo salutare tutti gli anziani che ci ascoltano e magari sono soli perché non hanno vocio al tuo saluto Lidia innanzitutto diciamo come si esprime solidità per tutte quelle famiglie che attualmente ancora perdono perdono la vita parenti cari per questo virus nonostante ci sia il vaccino non voglio toccare il tasto di vaccino perché prossimamente dovrò contattare una persona dove ci parlerà di vaccino quindi vediamo un attimino chi parlerà del vaccino perché comunque vediamo un attimino perché comunque si parlerà anche di vaccini perché l'ultimo vaccino quello nuovo quello che comunque è stato già somministrato è stato bloccato quindi le nostre fiale che sono arrivate quelle erano adesso sono state trasportate e meglio importate in un altro stato però questo ce lo dirà qualcuno alla competenza io non non è che siano un no vax io purtroppo devo dire dobbiamo vaccinarci chi è contrario io rispetto la loro idea da professionista da anche da un da blogger io rispetto l'idea loro rispetto però anche loro devono rispettare la nostra perché chi è d'accordo del vaccino pensi però chi è ha fatto il covid come l'ho fatto io io penso che vaccinarsi e non incorrere a situazioni che purtroppo non sai come fare a campare per un mese e conviene vaccinarsi certo poi un'altra cosa importante Lidia e questo ti farò subito l'altra domanda a che lettore pensa quando scrive questa domanda allora io non penso tanto al lettore penso al messaggio al messaggio che voglio trasmettere a tutti che è un messaggio appunto di comunicazione intersoggettiva cioè stabilire un ponte tra me e gli altri per comunicare le mie emozioni i miei sogni i miei progetti la mia utopia che è quella di un nuovo umanessimo in cui tutte le persone vengono apprezzate per quello che sono e non per quello che appaiono e quindi i miei i miei lettori devono essere sensibili ecco questi sono i lettori che a cui io penso persone educate alla bellezza alla all'amore alle ai valori più profondi anche dal punto di vista etico che relazione c'è tra la scrittura e la società con le sue influenze politiche e culturali e come convivono questi aspetti nella produzione letteraria beh l'influenza è grandissima eh tra la scrittura e la società a partire diciamo da eh da Omero il quale attraverso Lilieda e l'Odissea eh mh riusciva a trasmettere dei valori eh morali ma anche delle tecniche per esempio come si costruiva una nave come si andava in combattimento e come si amministrava una città eh e e poi anche la la capacità di una persona intelligente di eh vincere la forza brutta ricordiamo Odisseo il ciclope Polifemo e sembrano insegnamenti così ehm ehm per abbastanza ehm usuali e invece hanno un grande impatto soprattutto sui ragazzi i ragazzi amano molto il mito e e questi sono i miti che dobbiamo trasmettere quelli appunto di civiltà del passato però che ancora oggi ci trasmettono dei valori profondi come l'ospitalità eh come l'amicizia eh l'amore ecco e e anche i filosofi eh come Aristotele e Platone hanno sottolineato l'importanza del legame tra cultura e società perché una società di persone libere si fonda appunto eh sulla cultura sulla preparazione sul senso critico sulla capacità di discernere tra bene e male cosa che invece non riusciamo a fare oggi perché con i social molti ragazzi non riescono a capire dove sta il bene e dove sta il male quindi l'importanza della cultura della letteratura sullo sviluppo eh storico e sociale eh del nostro mondo è fondamentale eh lo dicevano eh i filosofi antichi ma anche quelli moderni come per esempio Gadamer che ritiene che la letteratura eh sia il mezzo più importante più importante per trasformare la società ma anche Heidegger che dice che la parola è la casa dell'essere cioè della vera essenza dell'umanità che può essere un'essenza eh fondata eh sul terreno del sensibile ma anche con uno sguardo eh verso le realtà che sono al di sopra dell'uomo verso il divino cioè in che misura vabbè questo abbiamo detto no in che misura gli incontri con gli altri scrittori poeti intellettuali hanno influito nella sua poetica beh hanno influito moltissimo perché io fin da ragazza quando accompagnavo eh mio padre anche all'università agli incontri con gli altri poeti e scrittori perché c'era un laboratorio di poesia all'università di Lecce che purtroppo adesso non c'è più ma poi anche eh lo accompagnavo eh a Lucugnano eh nella dimora eh di Comi dove si svolgevano periodicamente eh degli incontri con i massimi esponenti della cultura nazionale come per esempio eh Oreste Macri eh Mario Marti e questa e questi incontri anche presso eh le librerie eh che aprivano i loro spazi a scrittori famosi infatti ho conosciuto eh Baricco ehm anche Bassani ho intrattenuto eh dei anche dei dialoghi con questi autori e e suggerendo loro eh anche delle nuove tematiche per i loro libri quindi è stata un'esperienza meravigliosa quella di poter spaziare prima in compagnia di mio padre poi anche grazie alle librerie che i centri culturali eh agli spazi letterari che eh sono numerosi nel capoluogo di Lecce ma anche a Maglie e negli altri paesi della eh provincia come Sternatia dove c'è un centro culturale molto importante Corama eh ecco per divulgare la cultura che è una cultura radicata nel territorio non è folclore è morto se non sbaglio un mesetto fa è morto la sua presidenza sì 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 infatti volevo ricordare appunto il carissimo Donato Indino che è stato una persona meravigliosa e veramente è riuscito a calamitare grandi professori di università come il compianto professore Rizzo e di letteratura italiana Mario Marti eh Augeri eh Figlieri eh nel suo centro culturale e che eh era veramente aperto a tutta la gente anche quella più semplice più umile riusciva a mettersi in sintonia con questi grandi critici letterari con questi poeti con gli scrittori e lì ho presentato alcuni dei miei libri come per esempio Il mito della donna in Brecht e Pavese e poi Gerusalemme il giardino di Miriam e Salman mio padre ha presentato lì la sua opera omnia biancata e e sono eh grata a Corama a Donato Indino e a Elisabetta che riesce a portare avanti con tanta energia e passione il l'eredità del padre io non so se qualcuno ha visto ma qui non ho un oggetto strano questo è il mio gatto è il gatto questo è un gatto che appena mi vede qui dentro mi deve venire sopra cioè mi piace mi piace mi piace la tecnologia ma soprattutto mi piace stare molto attaccato a me io ho sempre detto questo non è un gatto questo è un cane cioè ma non per l'aspetto diciamo come dire alcuni voi sono ragazzo però il carattere è proprio di un cane cioè è qualcosa di meraviglioso lui se non mi vede qui dentro cioè appena mi vede deve venire per forza qui con me si deve attaccare perché non lo prende in braccio e è qualcosa di è meraviglioso è meraviglioso perché diciamo questi animali così affettuosi ci trasmettono anche tanto amore sono importanti in questo periodo di lockdown per i bambini per gli anziani perché fanno tanta compagnia io l'ho voluto mettere apposta per far vedere qualcosa che comunque c'è il gatto c'è il gatto il cane anche il canio potrebbe essere anche emotivo anche da social però spesso non strumentalizziamo anche loro perché purtroppo è tanto c'è tanto un'altra cosa un'altra domanda che io ti voglio fare signora Lidia non ti dico come l'hanno formata ma quali autori l'hanno formata maggiormente e come è arrivata a loro perché è una domanda che abbiamo già detto ridetto la storia è piena di libri rifiutati e di libri che non sono stati immediatamente compresi dalle storie sì sì mi deve spiegare lei che rapporto ha il rifiuto e in che modo è cambiato nel tempo allora io ricordo che il gatto pardo di Tommasi di Lampibusa fu rifiutato dagli editori perché non lo ritennero all'altezza di essere pubblicato quindi venne pubblicato dopo molti anni così la raccolta poetica Lavorare stanca di Cesare Pavese che l'autore più caro della mia giovinezza ha aspettato due anni prima di essere pubblicata e non ha avuto neanche una buona ricezione è stata aspramente criticata perché Pavese era un innovatore e attingeva non soltanto la letteratura americana ma il verso lungo che usa io l'ho ricollegato nel mio ultimo saggio al verso americo al verso epico infatti l'esame tromerico ha un numero variabile di sillabe e un verso ipermetro rispetto all'endecasillabo e siccome Pavese amava molto Omero e i tragici greci ecco possiamo dire che anche il modo di versificare di Pavese che sembrava così innovativo e non veniva compreso dai contemporanei e invece era un modo di poetare classico e sublime perché arriva fino al cuore delle persone non vi faccio vedere in che posizione ti hai messo il mio catto perché si è messo in stato possiamo immaginare troppo mi fa tanta compagnia vedete sì poi quanto conta oggi l'apprezzamento dell'opera e il suo approccio al testo e che rapporto ha con il mercato Lidia allora io ho avuto diciamo con l'editoria un rapporto intermittente perché mi sono dedicata molto all'insegnamento sia al liceo poi ho conseguito il dottorato di ricerca ho lavorato per 40 anni gratuitamente all'università ho dedicato a volte poco tempo alla mia produzione poetica e saggistica io ho avuto la fortuna di avere dei grandi professori come Mario Marti Donato Valli poi Francesco Politi Carlo Alberto Augeri e Pierfranco Bruni che adesso considero il mio mentore infatti Pierfranco mi ha sollecitato a ritornare nel campo letterario che io avevo abbandonato per un certo periodo e a pubblicare le mie poesie che presto verranno edite dalla casa editrice Albatros e pubblicherò anche un saggio comparativo su Cesare Pavese e Leonardo Sciascia per il centenario della nascita del grande scrittore siciliano quindi sono molto grata a Pierfranco Bruni e anche alla giornalista Stefania Romito che mi ha intervistato nelle televisioni del Nord perché la nostra voce deve giungere ovunque non dobbiamo essere provinciali dobbiamo aprirci a tutti a tutti perché la nostra Italia è così estesa e dobbiamo abbracciarci tutti anche virtualmente non dobbiamo fare un sogno un sogno veramente forse talmente tanta la voglia e la passione della musica della radio innanzitutto realizzare però da solo io non lo posso fare ho bisogno veramente di tanto sostegno anche da persone che conosco e questa è una di tante se anche tu sei sì da solo io non riesco a farlo vorrei realizzare chiaramente il libro lo faccio io ma con la partecipazione vostra un libro sulla storia della radio delle prime FM qui nel Salento che attualmente non c'è il libro e io vorrei assieme se c'è qualche qualche persona che vuole darmi una mano accompagnarmi in questo lungo cammino che è un percorso che io vorrei fare e purtroppo non ho il tempo materiale per farlo però so che ci sono parecchie persone che possono aiutarmi a fare tutto ciò questo è uno dei dati un libro non un librone un libro da leggere da leggere abbastanza come si sa dire no facile da leggere chiunque lo può leggere e far capire la storia delle prime radio di Radio Recce Libera a Lecce 1983 se non sbaglio no 77 no 1970 Radio Recce Libera sulla data mi informerò dove è nata la prima radio universitaria chiamata proprio Radio Recce Libera e poi discorrendo fino all'avvento del 2021 in base a quando poi uscirà il libro delle web radio del fare comunicazione a 360 gradi utilizzando i social network è un mio sogno e poi un altro sogno che io ho e ho nel cassetto è proprio quello di realizzare un libro o meglio un vocabolario è un'idea nuova non degli artisti salentini con il nome della famiglia ma bensì l'artista salentino nel panorama italiano quindi dal 1970 fino a giorni nostri con magari un richiamo un richiamo alla canzone in cui ha cantato perché voi ben sappiate quando si richiama la canzone si mette la canzone subito immediatamente una persona collega al cantante cioè la memoria chi non è di memoria corta se lo può ricordare mio padre oggi facevano una chiacchierata con mio padre cosa mi ha detto Davide dice ma secondo me è una cosa fatta così non riesci perché perché c'è wikipedia uno va su wikipedia e ve ne dico sicuro ho detto io penso che il libro ce l'avranno a portare di mano un po' tutti forse il libro è l'emblema di ciò che è cultura è vero anche le edizioni online ma quando si ha un libro in mano anche per conoscenza personale si ha veramente tanto 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 si condivido condivido è vero questa opinione perché diciamo noi possiamo leggere i libri sul tablet però ecco tenere tra le braccia un libro ci si sente la carta ci dà un'emozione appunto l'odore stesso della carta stampata il fatto che lo puoi anche annotare e tenere sul comodino è un'emozione molto molto forte che non te lo dà un freddo schermo quindi io penso che debbano convivere entrambe le cose sia la cultura tramite diciamo le trasmissioni online apprezzo molto coloro che pubblicano le poesie online ma deve essere uno stimolo poi ad acquistare i libri anche perché le memorie può darsi che un giorno si bruceranno e noi abbiamo bisogno anche del cartacero per conservare la nostra cultura non ci possiamo affidare soltanto a questo sistema che potrebbe anche avere un tracollo un domani questo sistema informatico non sappiamo fino a quando durerà esiste un luogo ideale di incontro e scontro tra autori se mi puoi gentilmente ripetere la domanda perché non sono riuscita a comprenderla esiste un luogo ideale di incontro e scontro tra autori guarda penso che il luogo ideale è quello appunto di un di un di un teatro oppure di un'associazione culturale o di una libreria in cui si può dialogare insieme ecco senza schermi che ci dividono e sentire il calore vero delle persone però in questo periodo ci dobbiamo accontentare anche di dialogare a distanza e questa modalità forse ha allargato anche la cerchia delle nostre conoscenze la cerchia dei nostri contatti quindi dobbiamo essere grati al web perché è aperto nuovi orizzonti ma non dobbiamo dimenticare il contatto diretto che dovrà avvenire dopo il lockdown e dobbiamo incontrarci di nuovo in queste sedi appunto che anche per esempio dei teatri dove la la poesia è intramezzata anche dalle preziose note di musicisti di cantautori che in Salento sono così numerosi è bello associare musica e poesia scrittura e arte penso anche ai musei ai musei dove si può fare appunto letteratura e poesia in che stato si trova la letteratura oggi? allora oggi la letteratura purtroppo sta avendo un notevole tracollo perché il numero dei lettori è diminuito in maniera esponenziale e addirittura leggevo poco fa che la casa editrice Mondadori sta chiudendo perché non ci sono poeti da pubblicare mi sembra una cosa eccessiva perché in realtà c'è Mondadori una cosa di letteratura si trova sprovvista di autori sì sì l'ho letto poco fa dieci minuti fa che Mondadori si trova sprovvista di autori e quindi non riesce a continuare le pubblicazioni sì comunque stanno sorgendo tante piccole case editrici che sono meritorie per il loro impegno e tra queste case editrici voglio ricordare Albatros che fra poco pubblicherà non solo le mie poesie anche poesie di altri esordienti perché io pur avendo cominciato a scrivere fin da da giovane avendo ricevuto molti premi letterari tra cui il premio Ungaretti il premio Sestri Levante e anche premio all'estero a San Pietroburgo non avevo mai edito una raccolta completa di mie poesie e ora lo sto facendo grazie a questo gruppo che crede negli esordienti faccio tanti auguri diciamo a questa casa editrice che è sorda soltanto da vent'anni però a diciamo illustri attori che leggono le poesie come Claudia Gerini Luciano Haber Gasman figlio di Gasman quindi occorre dare spazio anche a queste nuove realtà e penso che di nuovo riusciremo anche a pubblicare delle opere di notevole livello culturale soprattutto abbiamo diversi poeti che si sono affacciati all'orizzonte degli ultimi decenni tra cui il grande Pierfranco Bruni candidato che è stato candidato al Nobel poi Patrizia Cavalli Giuseppe Conte che è Leccese Marcello Buttazzo che è un carissimo artista e amico quindi faccio a loro veramente tanti auguri perché la poesia c'è gli autori ci sono soltanto che noi li dobbiamo riscoprire quindi non stare sempre davanti a un computer ma ecco cercare nel computer i messaggi poetici e acquistare i libri faccio un'ultima domanda ti interrompo perché ti faccio una domanda l'ultima domanda ti prego di essere molto stretta per poi passare al gioco si deve essere una risposta il gioco poi ti spiego come funzionerà che non sia pericoloso non sia pericoloso non è pericoloso faccio vedere in faccia vedo delle vedo io vediamo tutti ormai delle mancanze rispetto al passato trova che ci sono delle figure interessanti sì allora diciamo che rispetto al passato manca questo questo tempo di approfondimento eppure il lockdown doveva offrire a molte persone degli spazi per approfondire ma non abbiamo soffrito di questa opportunità che ha dato il lockdown e quindi la nostra cultura non sempre ha fatto dei balzi in avanti e ora dobbiamo cercare di recuperare questo tempo perduto perché se vogliamo ricostruire la società non la possiamo ricostruire solo attraverso la politica ma la cultura è la pietra migliare di ogni società civile se abbiamo persone colte esse si dedicheranno al bene comune con anche spirito di generosità di altruismo e non soltanto per accrescere il loro potere oppure il loro conto in banca quindi dobbiamo formare una classe di giovani aperti ai valori dello spirito i quali costruiscono una società nuova su quei valori spirituali appunto della collaborazione della bellezza del cosmopolitismo che devono ecco essere proprio la società nuova una società in cui tutti gli uomini si sentono compresi amati senza dover fare sfide perché la sfida più grande per me è quella dell'amare gli altri un gioco questo gioco io lo vorrei fare in origine di farlo la settimana scorsa non l'ho fatto ma lo faccio con te la prima lo farò anche sabato mi devi dire la risposta secca secca proprio secca senza secca secca proprio se potesse scegliere tre libri da consigliare quali sarebbero allora i dialoghi di platone in particolare l'apologia di socrate libri scherzi hai un margine di tempo di 5 secondi sì allora la vita la vita è un sogno di calderon della barca perché ci riporta la realtà la realtà virtuale quella reale e poi per i moderni penserei a Thomas Mann Thomas Mann morte a Venezia perché dalla decadenza può nascere anche una rinascita poi esiste un libro che ha una grande influenza nella tua vita Lidia? beh sì diciamo che tutti i libri di Pavese che ho amato fin dall'adolescenza per me hanno avuto una grande importanza e poi i libri degli autori americani come Walt Whitman fili d'erba sono ecco dei libri che rappresentano anche un'apertura verso il mondo ci fanno comprendere che non dobbiamo vivere nel chiuso del nostro ambiente ma avere una mente aperta su tutta su tutto il pianeta e anche sul futuro c'è uno scrittore che consideri il tuo mentore sì ne accendavo prima il professore Pierfranco Bruni che è stato candidato al Nobel e che ha scritto almeno un centinaio di opere spaziando dall'archeologia perché lui è un archeologo è stato direttore del museo di Taranto fino alla storia dell'Italia meridionale e poi alla la poesia è uno dei poeti più importanti del nostro novecento e quindi lo saluto sperando che mi ascolti c'è uno scrittore può uno scrittore distinguere tra le sue opere quella preferita sì o no e perché se c'è uno scrittore non ho sentito bene la domanda può uno scrittore distinguere tra le sue opere sì sì adesso ho capito guarda tra le opere che ho scritto quella che preferisco è Gerusalemme il giardino di Miriam e Salman perché parla di pace e di amore tra tra giovani che appartengono a culture e religioni diverse ma grazie appunto a questo sentimento cosmico riescono a superare anche gli odi tra le loro etnie tra le loro fedi e quindi sono il simbolo di questa nuova umanità che va al di là delle divisioni confessionali di status sociale o di potenza economica è una novità che è più attenta all'essere che all'apparire insomma una società vera ecco una società di persone vere autentiche e non di fantocci come purtroppo vediamo sul web e anche in televisione ok adesso un'altra domanda tu quale preferisci vabbè hai detto già quale preferisci sì quale dei personaggi dei tuoi libri assomiglia più a te guarda ma tutte le opere in fondo sono autobiografiche no perché in esse si esprime la nostra sensibilità le nostre emozioni diciamo tra questi personaggi penso a quello di una ragazza che ha perso l'amore ma crede sempre che appunto una poesia che ho scritto a 32 anni ha perso l'amore però ecco sogna di ritrovarlo infatti lo troverà è una poesia romanzo questa forse scriverò anche un romanzo su questa poesia è la mia preferita domanda e questo penso che sia la fine della nostra bella chiacchierata tu quali dei personaggi qual è il prossimo passo di Lidia Caputo allora il mio prossimo passo è quello di pubblicare le poesie una raccolta di 45 poesie con la casa editrice Albatros e poi un assaggio comparativo sulla ricerca esistenziale e sull'interrogativo esistenziale in Cesare Pavese e Leonardo Sciascia io ti saluto Lidia abbiamo finito la nostra lunga chiacchierata abbiamo superato i 55 minuti ah mi dispiace no 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 forse vi ho annoiati di averci intervistata perché veramente è molto molto bello importante parlare di cultura perché ovviamente di cultura se ne parli poco ti ringrazio per quello che veramente fa per la cultura salentina la cultura leccese ma la cultura diciamo in generale grazie grazie a voi a tutti quanti sabato e io invito Lidia anche a collegarsi gli manderò il link della pagina volentieri volentieri avremo un'ottile che io ho sempre sognato intervistare perché io seguo molto la sua pagina facebook bene grazie grazie un'ottima che ti rivisteremo Nicole Orlando che è la campionessa per paralimpionica di atletica leggera ah splendida è down ma questo è un qualcosa credete i miei amici di fantastico una ragazza che 100 ce ne vogliono di lei io senza Nicola parola a Locandino dove mi sono appena attivate le immagini io dico sempre che il mondo sarebbe senza Nicola è una ragazza fantastico fantastico ragazzi io vedetemi ho sempre sognato perché quando tu vedi una ragazza la vedi la osservi su facebook vedi cosa fa non trasmutiamo il senso di vedere e vedere cosa fa lasciamo per il senso di come trasmette le emozioni nei libri lei lo dirà anche lei ma non annuncia lei è presente anche i libri di scuola e credetemi fare una chiacchierata con lei non dico che mi scapperanno le lacrime ma sicuramente staremo lì c'è il mucone in gola perché è una ragazza fantastica è molto è molto inserita nella società sa quello che dice ma soprattutto sa quello che fa io saluto tutti gli amici che ci hanno seguito finora veramente sono contento e ripeto di intervistare di chi ha caputo grazie grazie a te Davide e a tutti gli ascoltatori che mi aiuta e ti ringrazio fortemente vediamoci senza altro qualche libro qualcosa perché ci tengo particolarmente perché credetemi ragazzi io non l'ho detto prima perché media parlava ma quando quando si parla di radio mi prendi cioè quando uno parla ci deve essere Davide perché io non perché voglio vantarmi ma mi piace il discorso di radio uno se non se non entra in quella macchina non assapora però una volta che entri in quella macchina stati tranquillo che difficilmente ti innamori te ne vai ci stai proprio dentro e ti innamori come sto a dire e io di radio me ne sono innamorato ti saluto Lidia mettiamo la sigla grazie saluti a tutti un abbraccio virtuale buona serata virtualmente virtualmente ci sentiamo e appena finisce l'intervista chiaramente alziamo la cornetta e chiamiamo Lidia per avere il risultato della portata ma grazie ciao a tutti a presto arrivederci dimmi la tua ok ciao radio ok in collaborazione con magilla spettacoli presenta dimmi la tua interviste con i personaggi e gli artisti del momento ogni martedì giovedì e sabato alle 19.30 in diretta live sulla pagina facebook radio ok conduce daddy dj quello a che o Grazie.